andiamo al parco giochi con leo leo il camioncino curioso il tiro al bersaglio siamo nel parco giochi il robot rosso ha una tinozza piena di palloni da basket ha ragione ad arrabbiarsi il robot viola ha fatto uno dei suoi soliti scherzi e i palloni sono caduti fuori dalla tinozza poteva finire sotto la ruota state attenti uno dei palloni tocca la ruota di max che interrompe il gioco con il robot blu ciao max vogliamo montare un nuovo gioco puoi darci i palloni da basket che sono caduti palloni da basket che meraviglia io sono bravo a fare canestro guardate facciamo un altro gioco non pallacanestro mi avete incuriosito che gioco è vedrai sarà una bella sorpresa voglio partecipare evviva le sorprese max oggi non è molto d'aiuto e allora amici montiamo il nuovo gioco con leo voi recuperate i palloni vieni lifty il cassone di leo è pieno di blocchi rossi e gialli assembliamoli questa è una piattaforma gialla aggiungiamo il bordo giallo e rosso intanto max continua a giocare per conto proprio sta fingendo pareti gialle cielo blu e colline con prati verdi birilli stradali pneumatici cespugli piante un bel paesaggio con tanti obiettivi da colpire con i palloni sì perché questo è un poligono di tiro già ma dove sono i palloni ehi max basta lanciare i palloni oh che sta succedendo qui robot questi vincono premi chi riesce a colpire più obiettivi con i palloni riceve un premio possiamo giocare insieme che meraviglia evviva finalmente giochiamo comincio io guardate non ci sono i palloni già qualcuno si è divertito a lanciarli e ora che facciamo ho trovato si giochiamo chi raccoglierà più palloni ottima idea tutti cominciano a cercare robot viola guarda sulla sedia della giostra ah ah presto max o l'acqua si porterà via il pallone i palloni sono ovunque anche lea ne ha trovati molti la tinozza si sta riempendo la tinozza è piena possiamo giocare finalmente tutti pronti? sì! nessun obiettivo colpito centrato evviva preso uno due tre ormai tutti i palloni colpiscono gli obiettivi no non proprio tutti non sono brava a lanciare palloni forse possiamo anche lanciarli insieme funziona centrato lancio io adesso non solo siete bravissimi wow e i premi non si fanno desiderare cosa c'è lì dentro lifty? paperette per i robot una due e tre un camion formine per max per voi non c'è niente come? l'altro pacco eccolo un super premio un super premio? una formula uno wow ciao bambini al prossimo gioco ciao ciao ciao